Ed ecco invece cari amici, vi presento ufficialmente, per me è un grande onore averlo qui, lui è il direttore generale del Canosa Calcio 1948, Saberio Bufi. Ecco, una bella vittoria quest'oggi, che insomma inaugura anche il suo ruolo. Ecco, un pensiero per i nostri lettori, per i nostri tifosi. Beh, io innanzitutto sono contentissimo e ringrazio tutta la città di Canosa e il presidente Emiliano Vitrani che mi ha invitato in questa bella esperienza. È un'esperienza che diciamo faccio con molto entusiasmo perché ho notato subito che c'erano molte insomma potenzialità nella città, nella squadra e nella dirigenza e tanta passione. Quindi sono orgoglioso di stare qui a Canosa, mi metto a disposizione della città per cercare di fare il mio meglio affinché questa città che ha tradizioni calcistiche importanti possa ritornare ad avere quelle stesse idee. Ecco, no, una domanda nasce spontanea, dice Piatino Azzullo. Un punto importante per lei, in questa grande società, storica società, cosa dovrebbe migliorare secondo lei? Ma è chiaro che la situazione che ho trovato era una situazione di tanta gente appassionata come te, come il presidente, come l'assessore Basile, come altri dirigenti come Giuseppe Tedeschi, o Nicola Pellegrino, Nicola Marcino, sono tante persone appassionate che vogliono dare il loro contributo per una causa che è quella della città. Quindi c'è soprattutto, Claudia, la sostanza più importante per una società che è quella che la passione e la voglia di fare, la determinazione. Il presidente mi ha chiesto di mettere, diciamo, ordine e organizzazione all'interno di questa passione. E' quello che ritengo di poter fare piuttosto tranquillamente, perché comunque tutti quanti sono messi a disposizione, tutti quanti vogliono arrivare allo stesso risultato di portare avanti il canosa, e quindi sono sicuro che potremo fare bene. E' chiaro che siamo insieme da dieci giorni, quindi dobbiamo lavorare, tanto lavorare, affinché, insomma, si possa fare bene, però sono fiducioso perché la squadra con il mister Scarigella sta andando veramente tanto, perché soprattutto in termini di voglia e di personalità è veramente, insomma, costruita bene. La città, poco per volta, ci sta sempre più rispondendo e sono sicuro che con il tuo lavoro, con il lavoro del presidente, con il lavoro della comunicazione, con il lavoro della passione di tutti, sicuramente riusciremo a far crescere questo progetto. Io ce la metterò tutta e metterò tutte le mie competenze manageriali per cercare, insomma, di far girare per bene questo, diciamo, questo giocattolo che esprime la passione di tutti quanti. Ok, grazie, grazie direttore. Ok, grazie.